E' arrivato. Ciao, baby. Perché sente sempre la musica? Da piccolo ha avuto un incidente. Gli è rimasto un ronzio nelle orecchie e mette la musica per coprirla. E questo lo rende il migliore. Tu sei uno misterioso. Forse. Questo lavoro è fatto di tre cose. Soldi, sesso e azioni. Uno di questi giorni ti macchierai le mani di sangue. Aspetta, devo rimetterla da capo. Ok, vai. Baby, dimmelo tu chi muore. No, io guido. Non vi serve altra musica, gente? Non vi serve altra musica, 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 non vi serve altra musica.